Ciao, io sono Barbara Codacci, coach della felicità con il metodo di Christian Buaron e insieme ai miei colleghi coach della felicità saremo dal 16 al 25 maggio al Garage Milano. Faremo dei laboratori aperti a tutti, basta iscriversi, ci sarà un laboratorio in particolare riservato alle mamme, mamme felici per bambini felici. Cosa faremo? Sarà una sorpresa, qualcuno magari già conosce il testo di Christian Buaron sulla felicità, le sue ricerche, che lo conosciate o che non lo conosciate, venite perché è veramente un'esperienza speciale, non è filosofia, è scienza, è divertimento, è gioco. A presto!